Eccoci, buongiorno a tutti, oggi proprio sfruttiamo anche questo aspetto, come dicevo, dinamico, perché è stato storto, vabbè, tanto c'è poco da vedere. Andiamo, ho la mascherina, ma dato che sono in macchina, quindi ne approfittiamo di questo breve spostamento. Volevo anticiparvi che, perché poi, diciamo, dopo scontate delle cose che forse sono scontate nella mia testa, ma forse nemmeno lì, che alcuni contenuti, come probabilmente, il prossimo, spero, vicino temporaneamente, cronologicamente, come si può dire, fra qualche mezz'ora, un'ora, non so, mettere un video su Patreon, ma perché su Patreon? Perché non sarà strettamente correlato, quantomeno non sarà strettamente ketogenico, quindi, per evitare di andare fuori tema, appunto, sfruttiamo questa nuova piattaforma con un'ampia veduta sul discorso benessere psicofisico, senza voler tediare chi, appunto, può seguire solo discorsi di natura ketogenica. E volevo dirlo, perché metterò, appunto, questo contenuto su Patreon gratuito, quindi, diciamo, certe cose le voglio proprio lasciare, che, diciamo, relativamente accessibili, perché poi, diciamo, uno va su Patreon, magari non ne è abituato, invece di andare su YouTube, presto ho detto, tante persone ne sono già andate a curiosare, saluto senza fare nomi, grazie, e, appunto, ci tengo a sottolineare quello che per me è una cosa scontata, quindi non ci saranno solo contenuti per persone che, appunto, vorranno aderire anche, diciamo, in maniera supportiva, come si può dire, a livello economico, ma saranno, diciamo, contenuti leggermente più ad ampia veduta sulla tematica benessere, quindi non saranno postate, appunto, su YouTube, bensì su Patreon. Così, diciamo, spero, ovviamente, anche di incuriosire anche i più pigri, e, insomma, andate un po' a curiosare, tanto mettete Patreon.com e mi cercate, eccoli che vengo fuori. Questo è tutto, direi che, diciamo, affronteremo, appunto, non sembra, ma lo sto accusando, e rientro, anche se, appunto, riteto, è stata una giornata con alti e bassi, lavorativi, non proprio al massimo dello stress, però direi che, diciamo, rientro, l'ho sentito, l'ho sentito, e, diciamo, ho già bisogno di un'altra vacanza, ve lo dico. Va bene, niente, ci sentiamo più tardi, chi è interessato mi trova su Patreon. Ciao, a dopo, Doc Andrea Revisi.